E bello a tutti ragazzi e ragazze e ben ritornati dalla vostra Coratomist Oggi ragazzi siamo qui con un video fighissimo, proprio succulento Perché come sapete ragazzi sono tornata da diciamo circa un mesetto e passa a competere su Fortnite Perché comunque mi mancava davvero tanto E peraltro in questo periodo ho comunque raggiunto degli ottimi risultati anche nelle Cash Cup Settimana prossima abbiamo fatto un secondo posto nel torneo No Building Squad Secondo in Europa, quindi tanta roba Però ogni tanto mi va anche di divertirmi e fare qualcosa di differente Infatti oggi vedete appunto un gameplay pazzesco Perché sono andata appunto in pubblica nella No Build E raga ho fatto il panico Ho fatto 28 kill con tipo 8000 danni Ragazzi ho distrutto tutti Letteralmente God Aim e ora l'andate a vedere Quindi ragazzuoli solo per questo video mi raccomando lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 18 in poi sul mio canale Viola Link in descrizione E trovate anche il mio profilo Instagram sempre in descrizione Quindi seguitemi, vi aspetto Ma ora ragazzuoli non perdiamoci in chiacchiere perché c'è davvero tanto da vedere in questa partita Quindi belli miei una buona visione Allora prendiamo sto pompa Ok mini shield va bene Grazie game Facciamoci anche il big E si va raga Andiamo a pusciare questo qua a destra E le piante che mi bloccano Che palla Allora mi prendo questo Butto la cappa che non mi interessa Ok zio Ok dammi pompa nuova Thank you very much Thank you very much Thank you very much Dammi qua sta roba Ole Buonasera Squartatore si chiamava questo Incredibile No 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 Fra che se c'era un nuovo film horror su Fortnite Ma perché questo game mi voleva contestare in 1v1 con la motosega Mi giuro non l'ho capito raga Ok abbiamo due impulso Quattro impulso e due buchi Nooo Ok raga seguiamolo Mi seguo fra fino alla fine non hai capito E sul portaforte sicuro Raga ma si è fatto 14 splash Si è fatto Si è fatto 14 splash Vabbè Questo si è buttato sull'albero Che fa la scimmia Mi scusi Raga Perché non gli ho fatto male investendolo Raga ma l'ho investito in una velocità chilometrica No ma sono i bot Oh mio dio Ho spiegato una bokemon per io cosione veramente Ma vaffalù Dai ma che ne stai Non so che erano i bot a prendere la macchina Senso che prenderò la macchina Cioè io Possiamo ancora fare 20 bombe raga Siamo 30 live e 9 kill Dobbiamo fare 20 bombe ragazzi Possiamo farcela raga C'era uno che notava No no era un bug visivo Era quello che ho ammazzato Che notava Che poi Si è tolto dopo un po' il sound visivo Peccato Mi ha preso una kill raga Andiamo raga Possiamo fare veramente un gioco di kill sto game Se lo vinciamo eh Possiamo farne un fracco raga Non morire l'ovacchiotto resisti Non morire Ok Fermi Non vedo nulla Incredibile Ok siamo fuori Ok è morto C'è un player che si è avvicinato a me Questa c'è la carica di 101 dietro Non ho capito Merda raga Che aim Peccato per l'ultimo shot Che non mi è entrato Ok La kill me la sono presa 20 kill Ok Ce l'abbiamo signori Ora con calma Dobbiamo vincere il game E fare più kill possibili Non si impulsa Quando c'è Martina Nei dintorni Le impulso Non si possono effettuare Ok Ok gg Raga ma dove sono tutti Scusatemi Là c'è un ginghiale che segue Mi sa un player Ok lì c'è un player Quindi uno l'abbiamo spottato Ok E un player è là E un altro player è lì Quindi uno Due tre Ok Devo occuparmi di questo qua dietro Allora io raga Ficcato se cado col barret Sono morta Così imparo a fregarmi la kill Questa si chiama avere mira GG raga Peccato perché ce l'hanno fregata una 7900 danni Impressionante Impressionante Ed eccoci qua ragazzi Siamo giù dal termine di questo video Come avete visto abbiamo letteralmente Spaccato tutta l'intera lobby Facendo veramente il panico Mi hanno anche stilato una kill Infatti ne potevo fare 25 Però non fa niente Sorvoliamo Mi sono vendicata abbastanza Su quel player che mi ha stilato la kill Quindi perfetto Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E come sempre ragazzi Noi ci rivecchiamo In un prossimo video Dalla vostra Kratomist È tutto Bella a tutti ragazzi Ciao